architetto romanelli lei è curatore di questa mostra dove ci troviamo e soprattutto perché il museo diocesano ha pensato e ha voluto essere parte della grande mostra internazionale della triennale parliamo dal titolo quella della triennale complessivo design after design qui invece design behind dietro design perché rispetto alla generica domanda posta dalla triennale su che cosa c'è dopo il design quindi quale sarà ad esempio il design del futuro quali sono le prossime ipotesi rispetto al design qui al museo diocesano ci siamo chiesti che cos'è il design oltre il design quindi che significato esiste nell'oggetto al di là della forma e della funzione ovviamente questa ricerca del significato è un tema importantissimo nel momento in cui ci si occupa di arte di arredo di architettura del sacro naturalmente in una mostra sul sacro nell'arte contemporanea non poteva mancare il simbolo della croce che continua ad attirare comunque gli artisti di oggi la cosa straordinaria al di là del rapporto dell'artista con la croce che diciamo un rapporto storico è in realtà l'interesse del design per la croce lavorando a questa mostra abbiamo scoperto che molti dei designer milanesi indipendentemente da qualsiasi tipo di committenza avevano nei loro studi lavorato su questo simbolo da un certo punto di vista atroce da un altro punto di vista straordinario e quindi siamo riusciti a raccogliere opere di lorenzo damiani marco ferreri marta laudani e milionanni dimostrando tra l'altro che la vitalità di questo oggetto è ancora fortissima perché ogni designer l'ha interpretata in un modo completamente diverso ci troviamo nella sala che propone alcuni esemplari dell'evangeliario ambrosiano con le opere di artisti della transavanguardia ecco cosa rappresenta questa iniziativa voluta dal cardinale tetta manzi come dono quando ha lasciato la nostra diocesi nel 2011 dionigi tetta manzi ha deciso di abbinare la parola del vangelo all'immagine in questo straordinario oggetto che dobbiamo far notare viene usato in tutte le parrocchie milanesi nell'edizione con la coperta di paladino di fatti ne sono stati stampati 2000 esemplari troviamo proprio questa sinergia tra testo e immagine e questo credo che sia molto bello all'interno di una mostra sull'arte sacra perché torna al discorso dell'interpretare l'artista deve essere capace di interpretare queste queste parole profondissime e quindi spiegare alla gente attraverso l'immagine il concetto come in fondo era nell'arte antica anche paramenti liturgici in questa mostra una scelta certamente non casuale ma sicuramente quando si parla di design si parla anche di fashion design è abbastanza strano dirlo rispetto alle casule cioè agli abiti che porta il celebrante durante la messa però abbiamo voluto inserire un pezzo straordinario disegnato nel 2005 da Nanni Strada che utilizza le più moderne tecniche di confezionamento del tessuto se guardate questa sopravveste è tagliata al laser e quindi questi tagli perfetti che in fondo ricordano fontana permettono di vedere una sottoveste che in realtà cambia a seconda del periodo liturgico dell'anno in questo caso abbiamo l'oro ma esiste anche il rosso il verde il viola questo è un ragionamento molto interessante perché molto di design c'è una sorta di economia dei mezzi sia dei mezzi industriali di realizzazione che anche della realizzazione del capo con un'unica sopravveste si fanno quattro periodi liturgici per adesso abbiamo concluso questo piccolo viaggio nella grande mostra al diocesano che si inserisce nella rassegna internazionale 21st century design after design quella del diocesano è una mostra lo complessa ricca di significati proprio design behind design e allora noi torneremo al diocesano ne parleremo ancora per raccontarvi tutta la bellezza contemporanea che sposa l'arte sacra il bello che dice la bellezza del signore è un'unica sopravveste